Buona giornata e ben ritornati nei sui di Tele Radio Pace, questa è la seconda edizione del Tg Rassegna Stampa di oggi, 3 di aprile, siamo arrivati così a mercoledì, quindi centro di questa settimana di Pasqua, quindi oggi è mercoledì di Pasqua, certamente è la prima giornata feriale per moltissimi perché oggi rinizia la scuola, riniziano molte attività economiche e commerciali che sono state sospese per le vacanze di Pasqua e quindi ci rimmergiamo tutti in un clima feriale, naturalmente dopo le feste, però siamo sempre nella settimana di Pasqua e andiamo a vedere subito i Santi ricordati e festeggiati in questo mercoledì, 3 di aprile, San Riccardo di Chichester e poi ancora San Luigi Scorosoppi, San Sisto I Papa, Beato Gandolfo di Binasco, San Giuseppe Linnografo, San Niceta di Medichion e poi i martiri Ulpiano di Tiro, Cresto e Pappo, Beato Giovanni da Penna, San Giovanni, San Giovanni I di Napoli, Beato Pietro Edoardo Dancoschi e Beati Roberto Middleton e Thorsten Hart, tutti quanti martiri. Auguri, auguri, auguri a tutti coloro che oggi festeggiano il loro santo patrono o chi ricorda oggi un lieto evento, un anniversario o coloro che oggi sono nati e quindi festeggiano il loro compleanno. Un saluto anche a Luigi Canu che è il regista di questa mattina che coordina la parte tecnica e regia e un saluto anche a Cristina Oneto che è prontissima in redazione, sta già lavorando per un collegamento che avremo poi nel corso di questa seconda edizione del Tg Rassegna Stampa. Andiamo a vedere le temperature, ma anche apriamo le finestre all'esterno così diamo uno sguardo al meteo, anche se questa mattina purtroppo non possiamo mostrarvi dei bei panorami come abbiamo fatto magari un po' ieri, nei giorni scorsi, oggi invece torniamo a vedere le nostre telecamere bagnate dalle gocce di pioggia, è iniziato a piovere infatti su gran parte della nostra riviera, della nostra costa e pioverà nel corso della giornata un po' ovunque in Liguria, in particolare le piogge più importanti sono previste negli entroterra del Levante ma anche la costa come vedete non è risparmiata. Perché? Perché sta passando sul nostro territorio, sta passando un po' su tutta la penisola una debole e veloce perturbazione. Ora chiamarla perturbazione è anche dargli troppa importanza perché in realtà si tratta di un po' meno, di qualcosa di più piccolo di una perturbazione. Comunque è un'ondata depressionaria che oggi porterà maltempo moderato, moderatissimo su tutta l'Italia. Non ci aspettiamo scrosci, piogge temporali, insomma niente di quello che magari abbiamo visto in particolare nella notte tra domenica e lunedì e quindi non ci saranno allerte eccetera. Però sicuramente ci infastidirà parecchio questo tempo uggioso che comunque ve lo diciamo subito durerà soltanto oggi perché da domani lentamente, senza fretta, ci sarà una rimonta anticiclonica che sembrava un pochino più veloce, un pochino più ampia, non sarà proprio velocissima, sarà una rimonta anticiclonica che inizierà domani per estendersi poi al fine settimana che è previsto non solo soleggiato ma anche molto tiepido, per non dire quasi caldo. Quindi andiamo anche verso un periodo decisamente primaverile ma anche forse ci sembrerà di essere un pochino più avanti rispetto ai primi di aprile. Ma andiamo a vedere le temperature di questa mattina che invece sono al di sotto dello zero sul Monte Bue, nonostante questo non sta nevicando perché vediamo appunto il Monte Bue desolatamente ormai quasi a secco di neve, c'è qualche chiazza rimasta proprio resilienza totale di queste chiazze di neve ma in un contesto che non prevede l'arrivo di altri fiocchi. Quindi anche pioggia sulla Val d'Avito quest'oggi, meno 0.9 in questo momento al Monte Bue, la minima è stata di meno un grado e mezzo, minima di 2.4 a Rocca d'Avito, anzi no, più 2.1 a Rifugio Casermette del Penna, temperature decisamente più alte nel resto della Val d'Avito, in questo momento 8 gradi per esempio a Rezzoaglio dove nella notte, a mezzanotte, siamo scesi a 3.9 sopra lo zero, 6.1 la minima di Cabanne di Rezzoaglio, poi non ci sono temperature rilevate in Valle Sturla, andiamo in Val Graveglia con i 9.8 di Pontori, mentre invece in Val Fontana Buona, Favale di Malvoro, 8.8, 9.7 a Pezzo Nasca, 9.8 a Pian dei Preti, 10.3 a San Colombano, 9.9 a Villa Oneto e poi scendiamo sulla costa con addirittura 14 gradi di Santa Margherita, anche perché questo maltempo porta nuovamente flussi meridionali sulla costa, flussi tra Scirocco e Libeccio, sul Tiguglio è più scirocco che Libeccio, e quindi è un vento piuttosto caldo che appunto non ha permesso ai termometri del Tiguglio occidentale di scendere sotto i 14 gradi, quindi Santa Margherita con 14.2, 14 gradi anche a Rapallo sul lungomare, 13.1 a Chiavari, 12.5 a Lavagna, località Berissi, 11.7 a San Bernardo di Sestri Levante e 11.8 a San Lorenzo di Moneglia. Andando invece sul Golfo Paradiso, a Ruta di Camogli, 11.2, a Sori, 13.1, a Nervi, 14.2, temperature piuttosto elevate anche nel centro di Genova, per esempio zona San Fruttuoso con 12.9, nel ponente genovese a Pra 13.3, sulla costa Savonese, anche qua sta soffiando lo Scirocco, infatti a Celle Ligure non siamo scesi sotto i 14.3 durante la notte, a Imperia 12.7, a Ventimiglia 12.2 e alla Spezia 11.5. Le temperature in realtà oggi rimarranno costanti, non ci sarà una grande escursione termica, quindi non è che andiamo a finire ai 20 gradi perché ci sarà pochissimo, anzi non ci sarà quasi per nulla, sul Levante soleggiamento, qualcosa di più sul Ponente perché già nel pomeriggio la situazione meteo si trasformerà un pochino, quindi sul Levante si attardano ancora delle nuvole, mentre invece sul Ponente arrivano subito delle schiarite, quindi nel corso del pomeriggio sul Ponente ci potrà essere ancora un soleggiamento che porterà le temperature ad elevarsi intorno ai 17-18 gradi, qualche grado in meno sul Levante, proprio perché non ci sarà questo soleggiamento nemmeno nella parte finale del pomeriggio, qua invece sul Levante il cielo dovrebbe essere meno nuvoloso a partire dalla serata. Qui siamo a Noli con le immagini che ci sta mostrando Luigi Canu dalla regia, ma torniamo in studio, torniamo in studio perché a questo punto andiamo a leggere i quotidiani in edicola questa mattina e iniziamo da una notizia che è arrivata su un quotidiano online, ma un po' su tutti i siti c'è notizia chiaramente di questa situazione, andiamo a vederla insieme, purtroppo appunto è un terremoto che c'è stato quando qua era notte a Taiwan, siamo nell'isola di Taiwan, di fronte alla Cina, terremoto, due fortissime scosse, almeno quattro i morti, ma rientra l'allerta tsunami perché in un primo tempo era stata anche diramata allerta tsunami, soprattutto verso le Filippine. L'epicentro di una scossa è stata in mare ad una profondità di 34,8 chilometri, la seconda invece a pochi chilometri ma ad una profondità minore, addirittura metà, 11 gradi e 8. Alcuni edifici sono crollati nella contea orientale di Wileyen e ci sono persone intrappolate sotto le macerie. Al momento parzialissimo il bilancio di 4 morti e 50 feriti, però chiaramente poi nel corso delle prossime ore si capirà meglio l'entità di questo sisma perché come vedete dalle immagini che appunto riportano questi palazzi che si sono adagiati su loro stessi, non sono crollati ma sono completamente inagibili e quindi vedremo appunto se ci saranno degli sviluppi e poi sicuramente nel corso della giornata. Allora abbiamo anche un'agenzia, prima di entrare sulle pagine dei quotidiani, un'agenzia di cronaca che riguarda soprattutto la Liguria. Allora andiamo alla leggere. Genova, traffico di droga e armi, 20 gli arresti. I carabinieri del ROS supportati dai militari della territoriale, quindi delle compagnie Liguri dei carabinieri hanno eseguito una misura cautelare in carcere messa dal GIP di Genova nei confronti di 20 indagati per detenzione e traffico internazionali di stupefacenti e armi anche da guerra. In corso perquisizione e sequestri in Liguria e Calabria, l'attività è frutto della cooperazione giudiziaria e di polizia assicurata a livello europeo da Eurojust ed Europol. Quindi è un traffico molto importante, un traffico internazionale che purtroppo vede la Liguria al centro di questo traffico, infatti tutta l'inchiesta è partita da Genova e adesso appunto anche degli sviluppi in Calabria. Di questa operazione dei carabinieri sapremo meglio qualcos'altro nelle prossime ore perché al momento è stata soltanto battuta questa agenzia che vi abbiamo appena letto. Andiamo su Avvenire, strage di volontari, si parla della notizia che invece abbiamo dato come agenzia ieri, che è in diretta come abbiamo dato oggi la notizia del terremoto, ieri abbiamo dato la notizia di questa strage che ha coinvolto sette operatori dell'ONG World Central Kitchen che porta cibo appunto a Gaza, è stata colpita in pieno sette morti, tra cui cittadini americani. Netanyahu ha un tragico errore, proteste da tutte le cancellerie, ora ha bloccato l'arrivo di aiuti e appunto si dice sicuramente è stato non volontario da parte di Israele, però se poi l'obiettivo è quello di bloccare gli aiuti nella stessa di Gaza, purtroppo ha centrato questo obiettivo. L'Iran promette vendetta per l'attacco all'ambasciata, sappiamo appunto del blitz a Damasco, ONU e l'Unione Europea sono preoccupate perché vogliono evitare l'escalation che a questo punto sembra quasi quasi ormai inevitabile. Oltre all'urgenza del cessato del fuoco, l'avvitamento medio orientale, cioè ci si sta avvitando sempre di più, moltamente l'Occidente non fa moltissimo per fermare Israele perché a questo punto veramente sta un po' andando oltre anche i suoi programmi iniziali, quindi davvero una situazione che rischia di degenerare in un conflitto totale di tutti contro tutti. Quindi è chiaro che arriva anche un allarme all'interno dell'Iraq, il patriarca caldeo Saco, in Iraq domina l'anarchia, i cristiani a rischio in terra santa, anche qua è stato un po' il frutto di una politica non troppo illuminata nel secolo scorso, iniziata nel secolo scorso contro l'Iraq che certamente era dominata da un dittatore come Saddam Hussein ma sicuramente non c'era l'anarchia totale che regna adesso e i cristiani non sono mai stati a rischio come in questo momento. Ambiente in 12 regioni non si può smaltire, l'amianto uccide ancora in ritardo le bonifiche e poi i co-op sociali servizi a rischio, rivedere le tariffe dei bandi, insostenibili gli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo. L'allarme arriva da Feder Solidarietà. L'ex capellano del Beccaria Don Gino Rigoldi, per questi giovani servono amicizia e una casa. E poi ancora il sì al premierato ma senza premio, chiaramente in questo contesto internazionale anche le notizie di politica interna risultano un po' anacquate, quindi se ne parla ma non magari come se ne parlerebbe in un periodo normale. La commissione del Senato ieri si è espressa a favore del premierato però senza il premio di maggioranza al 55% che era stato paventato alla vigilia. A scuola in Finlandia, a dodicenne spara e uccide un compagno, proprio in Finlandia dove si dice che ci sia la vita più felice del mondo perché c'è stata una classifica ultimamente proprio su questo. E poi ancora all'oratorio, una porta aperta su vita e fede, il presidente di noi. Andiamo sulla prima pagina del secolo XIX. Allora, razzi sui volontari, appunto il raid israeliano che ha ucciso sette operatori umanitari e poi Salvini si smarca da Putin, frenata prima del voto di sfiducia, l'accordo con Russia unita non vale più e fronda però nella Lega. È lettera di 21 amministratori del Carroccio, basta parlare con chi ama le svastiche. Testi in aula anche per il ministro Santanchè che appunto ha una mozione di sfiducia a suo carico ma lei dice che sono zero preoccupata. Pronte tre candidature ma i Dem e Liguri cresce il malumore. Tra i Dem e Liguri per le elezioni europee in queste ultime ore si sta affinando la lista dei deputati ma appunto ci sarebbero Brando Benifei, Lucia Artusi e Donatella Alfonso dalla Liguria ma appunto all'interno dei Dem il secolo XIX dice che c'è molto malumore. E ancora andiamo a vedere altre notizie, le città ripensano il verde in base al clima che cambia parla Capitanio in occasioni di Euroflora e poi il crollo del Ponte Morandi c'è appunto l'attesi della difesa degli imputati al processo, errori nella costruzione quindi il Ponte sarebbe crollato 60 anni dopo per difetti di costruzione. Poi non c'è pace in Val Roia, prigionieri delle frane sul passo del Tenda, disagi tra Francia e Italia. Allora sempre dalla prima pagina del secolo di oggi il governo benedice i rincari alle cinque terre la bellezza si paga. Andiamo a vedere appunto all'interno del secolo XIX magari se stacchiamo perché non lo riesco a trovare allora dicevamo all'interno del secolo XIX abbiamo appunto questo articolo il governo benedice i rincari sui treni dei turisti alle cinque terre la bellezza si paga. Proteste ieri alla Spezia durante il lancio della sinergia con la Toscana le proteste erano rivolte al Presidente della Regione Totti che ha deciso, insieme chiaramente alla sua giunta l'aumento delle tariffe ferroviarie per le cinque terre che in qualche modo stanno portando anche delle disdette magari non tanto delle vacanze lunghe ma delle giornate di gita come quella di Pasqueta certamente anche c'era il maltempo però insomma ci sono state anche secondo i ristoratori di alcune località delle cinque terre ci sono state tante disdette a causa anche dei prezzi delle tariffe perché fare il servizio pubblico agli stranieri con soldi dei Liguri si chiede Totti e parla anche la Ministra del Turismo Daniela Santanchè protestare oggi nel modo in cui vediamo aizzando i turisti mi sembra solo masochismo i rincari non riguardano i residenti il ticket al Pantheon non ha avuto ricadute negative ma non so cosa centri il ticket al Pantheon con le cinque terre comunque per fare un esempio ma al Pantheon i romani ci possono entrare gratis questa è una piccola annotazione però al di là di quello appunto c'è una protesta da parte degli operatori commerciali e turistici di tutta la zona delle cinque terre contro questi rincari che sono stati piuttosto importanti ma nel complesso c'è un malumore generale per come è andato il periodo pasquale da parte di tutti gli operatori turistici non solo per i rincari dei biglietti alle cinque terre anche e soprattutto per il maltempo che è arrivato come appunto una diciamo così una iattura su questo periodo e molte sono state le disdette o addirittura la mancanza di prenotazioni sentiamo il bilancio di questo periodo dal punto di vista turistico che dovrebbe essere il periodo di lancio della stagione 2024 nel servizio di Jacopo Giovannini Pasqua bagnata, Pasqua sfortunata per il settore turistico almeno il meteo avverso durante le festività pasquali ha infatti condizionato negativamente le presenze turistiche non sono mancati turisti stranieri ma quelli di prossimità che scoraggiati dalle previsioni meteo hanno preferito altri luoghi o sono rimasti di meno è stata una Pasqua molto in ombra e ha raggiunto delle percentuali di occupazioni un po' più basse dello sperato quindi penso che ci attesteremo sul 70-75% di occupazione a marzo di stranieri se ne vedono ancora pochi quindi sono gli italiani che prima di partire da casa vedono le condizioni meteorologiche vedono se conviene venire al mare o magari qualcuno è andato per l'ultima volta in montagna a farsi la sciata Tra le alternative premiate le città di cultura l'offerta culturale nel Tiguglio fatica a emergere ma potrebbe rivelarsi una soluzione fruttuosa prendendo spunto da chi ci sta intorno Genova vive ultimamente si sta vedendo vive di mostre di manifestazioni legate ai rolli per esempio vive di teatro perché c'è un teatro cosa che magari qui nel Tiguglio non c'è Nelle 5 terre invece il numero delle presenze turistiche è stato positivo ma non sono mancate le polemiche per le nuove tariffe ferroviarie a Pasqua era in vigore la fascia rossa per cui un turista paga un biglietto singolo 10 euro o in alternativa una 5 terre card giornaliera 32,50 euro la situazione apre a varie riflessioni sulle modalità di gestione dei flussi turistici quando si aumentano i prezzi sono sempre un po' antipatici da ingoiare bisognerebbe trovare un sistema per calmerare gli arrivi anche per preservare la località il territorio non è che diminuendo i turisti poi ci si perde economicamente ci si guadagna in immagine Allora parliamo sempre di trasporti pubblici questa volta su ruota AMT fermata smart a chiave risseguiranno altre installazioni parla l'assessora comunale Ferrara apri pista nel progetto del Levante gavuglio test utile per rinnovare il servizio il primo pannello elettronico davanti alla stazione in corsa a Sarotti fornerà informazioni sui tempi di attesa un po' quello che succede anche a Genova in città quando c'è il preannuncio del tempo di arrivo dell'autobus la città è la prima al di fuori dei confini genovesi a testare questo nuovo servizio il comune sta già pensando a un bis da attivare in piazza Nassiria quindi questo è un altro servizio per i coloro che sono fruitori del trasporto pubblico però questa volta su ruota allora cambiamo argomento ma ci colleghiamo subito con la redazione dove vediamo pronta Cristina Oneto ciao Cristina buongiorno buongiorno Marco un saluto a tutti gli ascoltatori prendiamo la linea dalla redazione per tratteggiare un bilancio dell'iniziativa diventare grandi l'esperienza promossa dall'ufficio pastorale giovanile della diocesi che ha visto oltre 100 ragazzi della nostra diocesi a Roma nelle giornate di lunedì e martedì per entrare a contatto con la storia dell'Italia e le istituzioni stiamo vedendo appunto alcune immagini del momento conclusivo che si è svolta proprio nell'incontro la visita guidata al Quirinale e l'approfondimento sui temi fondamentali della Costituzione spazio anche all'attività della Farnesina con un significativo incontro con Antonio Tagliani ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale il ministro si è mostrato molto disponibile del dialogo con i giovani ad un confronto aperto su tanti temi come ad esempio la ricerca della pace nel complicato quadro internazionale e poi il momento precedente a quello che ha concluso al quale fanno riferimento le immagini è stato grazie anche alla Fondazione Shoah nel quartiere ebraico i ragazzi hanno ascoltato la testimonianza di persone scampate alla furia nazista durante l'astrellamento del ghetto di Roma nel 1943 e successivamente la visita alle fosse Ardiatine ricordando il sacrificio di oltre 300 persone uccise dalle forze naziste nel primo giorno di soggiorno appunto a Roma i ragazzi si sono addentrati all'interno del servizio alla chiesa grazie all'incontro con il cardinale Angelo Comastri che ha invitato i giovani a spendere la vita con gioia per chi è nel bisogno quindi sono rientrati a casa carichi di entusiasmo con la consapevolezza che la cura del bene comune è possibile nella misura in cui ciascuno è disponibile a mettersi in gioco nella politica con la P maiuscola come ama definirla Papa Francesco torneremo in maniera più significativa su questo incontro nel corso dei nostri telegiornali ora la lina può ritornare allo studio grazie Cristina e noi proseguiamo invece parlando di liste d'attesa nella sanità locale e nella sanità del nostro territorio nella LAS 4 quest'oggi c'è una presa di posizione dell'associazione impegno comune liste di attesa della sanità impegno comune incontra i dirigenti della Sligure parla il presidente Grillo siamo tutti volontari che cercano di aiutare i cittadini a far valere i loro diritti il futuro del porto sbarca in consiglio comunale tensione a Lavagna l'ultima seduta della giunta preseduta dal sindaco mangiante prima naturalmente delle elezioni che appunto andranno a rinnovare il consiglio comunale a giugno andiamo ancora avanti spaccio nei boschi allarme per i minorenni il 40% tra i 15 e i 29 anni consuma droga dopo il blitz della polizia che ha sgominato un gruppo attivo in riviera che ricordiamo spacciava nei boschi non distanti dalla nostra riviera nei boschi alle spalle di cavi di lavagna al setaccio adesso c'è la lista dei 95 clienti fissi che si rifornivano ancora dal secolo XIX ancora parliamo di cronaca minaccia di uccidersi e spara in aria viene arrestato un uovo di 62 anni era in possesso di una pistola con matricola brasa e 24 proiettili l'annuncio al centralino della finanza poi l'intervento dei carabinieri per fermare il 62enne Comitato Corecon Liguria quota 1.300 conciliazioni difendiamo i più fragili comunicazioni il bilancio dell'organo che si occupa delle controversie tra utenti e operatori appunto il Corecom e ancora destinati ai comuni nuovi aiuti della regione per il restyling green sono 50 comuni dell'entroterra che da ieri possono accedere al bando regionale appunto per ristrutturazione poi ancora peste suina infrenata nel Tiguglio un solo caso e a Chiavari allagamenti in galleria a 12 sotto controllo ci sono stati molti punti delle gallerie della nostra autostrada colpiti evidentemente dalle grosse precipitazioni dei giorni scorsi e però ci sono sempre appunto all'interno delle gallerie delle perdite d'acqua che costituiscono anche delle minacce appunto alla sicurezza degli automobilisti e poi ancora un resort di lusso all'ex semaforo del semaforo nuovo del monte di Portofino che vediamo in questa foto qua dovrebbe dovrebbe con la condizionale appunto sorgere un resort di lusso ma c'è un ricorso della società Newfari contro lo stop al progetto di riconversione imposto dal parco di Portofino perché sappiamo che c'è un accontenzioso tra l'ente parco e la società che vorrebbe appunto trasformare questa struttura che attualmente è in questa maniera in un grande resort di lusso e a proposito una piazzola per SUV in via San Sebastiano a Portofino costerà 80.000 euro via Libera del Comune al progetto maggiorato previsto anche un semaforo per regolare il traffico verso l'hotel splendido e ancora 120 anni della società capitani e macchinisti di Camogli Michina in arte si chiama Michina in realtà il suo nome è Michela Canalis una fotografa che svelerà i segreti del porto di Genova a Camogli e poi ancora contributi per pagare la Tari domanda entro il 10 di aprile per coloro che sono in difficoltà per pagare appunto la tassa di smaltimento rifiuti a Santa Margherita Ligure andiamo ancora avanti e questa mattina parliamo anche della Chiavarina la sedia tradizionale di Chiavari Chiavarina una starlet l'ultima apparizione nella serie tv super sex ma prima c'erano stati fantozzi totò sordi addirittura qua vediamo una coppia formata da Ugo Tognazzi e il figlio Ricchi attuale regista insomma sappiamo appunto su due Chiavarina e poi vari altri momenti qua siamo in un film con Alberto Sordi ma con la regia di Vittorio De Sica quindi diciamo che la storia della sedia di Chiavari è passata anche attraverso il cinema ieri è stata la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo lo abbiamo ricordato a Recco un nuovo centro per l'apprendimento aiuto a ragazzi e famiglie palloncine e locandine appunto in questa giornata del 2 di aprile parliamo anche di sport perché quest'oggi scende in campo la Virtus Entella scenderà in campo infatti ad Alessandria per recuperare una partita che non si è giocata nel girone di andata con la Juve Next Gen Juve Next Gen bestia nera di Gallo ma l'Entella può blindare la classifica il tecnico la gara di recupero contro i bianconeri è un'occasione per dare continuità e fare punti quindi il fischio d'inizio ci sarà alle 14.30 allo stadio Mocca Gatta di Alessandria tra la Juventus New Generation che è appunto la parte diciamo giovanile della Juventus e la Virtus Entella che in questo momento è a caccia di punti per sperare di andare oltre la zona salvezza il match al Mocca Gatta potrebbe modificare gli orizzonti dei Chiavaresi la tattica niente turno avere in vista in campo chi sta meglio e a questo punto andiamo anche a parlarvi del depuratore di Chiaveri sono iniziate le opere propedeutiche di spostamento delle condutture dalla zona di Preli alla zona della Colmata dove sarà costruito il depuratore prime opere scatta la posa dei tubi tra Preli e la Colmata Chiaveri cantiere aperto dove è prevista la costruzione dell'impianto di Vallata il sindaco stop dal 15 maggio l'Iren seguiranno i lavori per lo scarico a mare Zoa gli interventi sui punti luci di via San Pietro e quindi la stessa via via San Pietro di Rovereto rimarrà chiusa per tre giorni proprio dalle 8.30 alle 18.30 per permettere da oggi appunto la posa di questi nuovi punti luci e chiaramente anche le varie utenze caperana alta dimenticata arrivano gli allarmi dalla minoranza in consiglio comunale orecchia sopra luogo in bici Chiaveri acquisterà presto la strada lo dice il consigliere comunale Garibaldi e poi ancora in troppi comuni delle valli manca ancora la banda larga e su questo tema arrivano in regione comunicazione interrogazione del Partito Democratico della Lega e dalla lista Sansa andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti di oggi nel nostro consueto ultimo appuntamento della mattina per quanto ci riguarda cioè l'agenda di Telepace appuntamenti in agenda per mercoledì 3 aprile alle 16 a Palazzo Reale a Genova si tiene il secondo appuntamento del ciclo concerti di primavera Filippo Bogdanovic si esibisce con le musiche di Bach Heindemit e Isaie costo del biglietto gli 7 euro entrata gratuita per i possessori della CAD Musei Nazionali di Genova nell'ambito dei corsi di cultura di Chiavari Antonio Balsamo tiene la lezione di psicologia intitolata l'apprendimento appuntamento alle 16.15 nella sala livellare in via del Pino 2 all'interno dell'auditorium Filarmonica di Chiavari alle 16.30 Barbara Bernabò presenta l'evento eruditi e genealogisti liguri tra 6 e 700 ingresso libero l'incontro fa parte dei corsi di cultura genovese di Chiavari prosegue la programmazione di 20 days in Mariupol di Sisters Love Cernov premio Oscar 2024 come miglior documentario doppio appuntamento alle 18.15 alle 20.30 alla sala film club del cinema stivo di Genova per una testimonianza della resistenza ucraina contro l'invasione russa e diamo anche noi un appuntamento per i prossimi giorni ma scattano le prenotazioni quindi è giusto dirlo in anticipo sono aperte le prenotazioni per partecipare al pranzo di comunità organizzato dalla parrocchia di Santo Stefano l'appuntamento si svolgerà domenica 21 aprile a partire dalle 12.30 nelle opere parrocchiali ma appunto le prenotazioni sono aperte a partire da oggi e sino al 12 di aprile al numero di Whatsapp 348 6567238 oppure presso l'edicola San Buceti di Via Roma a Lavagna allora a questo punto a questo punto dobbiamo anche darvi conto ma comunque recuperare e ridire la notizia con cui abbiamo aperto i carabinieri del ROS supportati dai militari della territoriale hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal GIP di Genova nei confronti di 20 indagati per detenzione traffico internazionale di stupefacenti e armi anche da guerra in corso ci sono per squisizione e sequestri in Liguria quindi potrebbe anche essere nel nostro territorio e in Calabria l'attività è frutto della cooperazione giudiziaria di polizia assicurativa a livello europeo da Eurojust ed Europol allora a questo punto andiamo anche a darvi le previsioni meteorologiche oggi purtroppo una giornata caratterizzata da mal tempo con appunto cielo molto nuvoloso e precipitazioni piogge deboli più probabili tra Genovese e Spezzino e il relativo introterra ma poi nel corso del pomeriggio come vedete dal cartello della Limet potranno esserci anche delle schiarite che avanzeranno a partire dall'imperiese mentre sul nostro settore centro-orientale il tempo resterà piuttosto perturbato con ancora possibili deboli piovaschi e generale miglioramento soltanto in serata 20 oggi tesi da sud sotto costa marino forte sui settori interni centro-orientali e l'Ibecio forte a largo mare generalmente molto mosso e temperature massime in calo e non oltre i 17 gradi soprattutto ci sarà un po' più caldo appunto sul ponente poi domani 4 aprile giovedì la Limet prevede in attesa di un miglioramento definitivo venerdì un tempo variabile con schiarite che si alterneranno ad annuvolamenti con venti di libeccio forte a largo e scirocco teso sotto costa e mare quindi ancora generalmente mosso temperature domani in leggero aumento termina così la seconda edizione del Tg Rassegna Stampa seconda e ultima della giornata e naturalmente vi diamo appuntamento al prossimo telegiornale quello delle 12.45 io ringrazio Luigi Canu che ha curato la regia e Cristiano Neto in redazione vi do appuntamento domani mattina 7.30 8.10 quindi da parte di Marco Revello l'augurio di un'ottima giornata a tutti